Omar Confalonieri, 48 anni, agente immobiliare e padre di un bambino di soli 8 mesi è ora accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate ma per gli inquirenti potrebbe essere uno stupratore seriale. Già nel 2009 infatti Confalonieri era stato condannato per violenza sessuale su una 18enne prima narcotizzata correggendo un drink con del sedativo e poi abusata. Lo stesso anno della condanna Confalonieri dovette chiudere la sua agenzia nei pressi di Milano ma dopo aver scontato la pena ed essere stato riabilitato dal tribunale iniziò una collaborazione con un portale specializzato nella vendita di immobili in nuda proprietà per poi fondare nel 2013 la Confalonieri Real Estate. Ma com'è possibile che sia tornato alla sua professione dopo la prima violenza? La normativa prevede che per poter fare l'agente immobiliare bisogna avere dei requisiti di onorabilità questi requisiti di onorabilità ovviamente escludono tutti quelli che sono condanne, reati ostativi ma che significa che deve essere una condanna che è passata in giudicato quindi definitiva. Attenzione però che la normativa prevede che se il tribunale riabilita il soggetto la valenza penale del reato decade e quindi la Camera di Commercio procede all'iscrizione al registro imprese del soggetto per forza perché la legge lo consente. Negli annunci immobiliari Confalonieri si presenta come un uomo a cui affidarsi a cuor leggero con un'esperienza maturata in 25 anni di attività eppure all'indirizzo della sua agenzia di via in Montenapoleone di lui non c'è traccia. Non è qua Confalonieri Real Estate? Probabilmente è o è stato domiciliato qui come si è delegale ma fisicamente non ho la più pari di idea di chi sia, di che faccia abbia. A conoscere l'agente è invece l'attuale proprietario di un appartamento gestito proprio da Confalonieri a Senago, in Brianza, a 30 km da Milano, ben lontano dalla prestigiosissima sede di via Montenapoleone. Lei conosce Omar Confalonieri direttamente? Sì. Ma che persona è lui? A me sembra una persona seria. E lei è sembrata una persona comunque affidabile nella vendita? A bambini, alla moglie, cioè... Padre di famiglia? Sì, Padre di famiglia.